Sesto trofeo di nuoto della città di Pineto, un appuntamento che si rinnova da sei anni, siamo proprio sulla spiaggia, tra poco gli atleti verranno portati a largo sulla piattaforma per iniziare questa gara. Cristina De Tullis è qui perché ovviamente fa parte dell'associazione del gruppo che organizza questa bella manifestazione che si chiama Spatangus, eppure qui c'è una storia dietro. Sì, la storia che c'è dietro in realtà ha questo nome un po' originale perché è una creatura del mare, quindi anche se noi veniamo in origine dalla Lombardia, quindi col mare non è che ci entriamo molto, però lo amiamo e quindi abbiamo voluto dedicare il nome del nostro gruppo a un essere del mare. Cosa è importante? Questa è una gara non competitiva e soprattutto per la solidarietà. Gli atleti sono 68 iscritti, vengono da tutta Italia, cerchiamo di spiegare qual è il fine benefico. Allora, prima di tutto vorrei aggiungere che oltre che da tutta Italia abbiamo quest'anno un atleta che è venuto appositamente da Londra, quindi diciamo che la manifestazione assume anche un carattere internazionale. Poi il fine benefico perché qui sul territorio esiste un'associazione piccola ma molto molto determinata, Abil Byte, che voglio ricordare ha fondato quella che è la prima usilioteca del centro sud. Mario Ruggeri è il vicepresidente di Abil Byte, ovvero l'associazione di volontariato per cui vengono raccolti i fondi in questa giornata. Ecco, cerchiamo di spiegare quanto è importante la strumentazione per questi ragazzi, per queste persone che attualmente sono qui, ci stanno proprio facendo vedere cosa riescono a fare. Grazie agli ausili informatici che noi acquistiamo, grazie a questi contributi, nella nostra usilioteca diamo la possibilità a chiunque di venire gratuitamente e di provare concretamente gli ausili. Quindi noi siamo lì a loro disposizione anche più volte in un arco di tempo, quindi anche due mesi possono venire e provare. Quindi quando poi sono sicuri che quel tipo di ausilio, quel tipo di computer, quel tipo di software è adatto alle proprie esigenze, possono decidere di effettuare l'acquisto, che non facciamo noi perché noi non facciamo vendita. Però ecco, un conto è acquistare un ausilio a scautola chiuso tramite online o per sentito dire, è un conto acquistare un ausilio perché l'hai provato, perché ti hanno spiegato come funziona, perché ti hanno aiutato ad imparare questo ausilio. Quindi cambia tutto.